soggetti di età compresa fra i nove e i diciotto mesi il giudice abbiamo avuto già modo di vederlo prima la signora Carmen Navarro Guisado dalla Spagna per gruppi scusate allora contro ordine entriamo per gruppi primo gruppo avanti per cortesia per gruppi organizzatevi per gruppi il primo gruppo allora entriamo per gruppi il primo gruppo il giudice ne sceglie due e gli altri escono pastore scozzese a pelo lungo bearded colli pastore tedesco border colli pastore australiano velcro scorgi pembrock ski per chi cane lupo cecoslovacco ok ok allora questo è il primo gruppo cani da pastore scozzese a pastore scozzese a pastore scozzese a pelo lungo bearded colli pastore tedesco border colli pastore pastore australiano pastore australiano ok prego usciamo dalla parte opposta secondo allora pastore del caucaso terranova pastore dell'asia centrale bull mastiff alano arlecchino doberman terrier nero russo rottweiler dogo argentino zwer schnauzzer bovaro del bernese bulldog inglese pincher schnauzzer zwer schnauzzer pepe sale nero argento nero ger pincher all'è secondo gruppo cani tipo pincher schnauzzer e monossoidi o guardia difesa utilità anche qui un finalista pastore del caucaso terranova pastore dell'asia centrale bull mastiff alano arlecchino doberman terrier nero russo rottweiler rottweiler dogo argentino risso schnauzzer nero bovaro del bernese bulldog inglese bovaro del bernese bulldog inglese pincher schnauzzer 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 pepe sale nero argento e nero e uno zwer pincher allora anche qui una scelta diamo la giudice navarro guisado quale soggetto del secondo gruppo sceglie terra nova grazie allora terzo gruppo american staffordshire fox terrier a pelo liscio westy jack russell norfolk i bassotti per cortesia qui in ordine d'italia eh grazie 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 Allora Terzo gruppo Quello dei Terrier American Staffordshire Fox Terrier West Island Guard Terrier Jack Russell Norfolk American Staffordshire Iniziamo con i Bassotti Bassotto standard Appelo corto Nano appelo corto Nano appelo duro Caninkan appelo corto Caninkan appelo duro Allora C'è un applauso a questi Bellissimi cinque Bassotti Vedete questi I Bassotti Sono nove razze Ci abbiamo tre taglie Lo standard E il Nano e il Caninkan E tre tipi di pelo Il pelo corto Il pelo duro E il pelo lungo Che in questo momento Non è presente sul ring Bassotto standard Appelo corto Il più grande Dei Bassotti Poi Nano appelo corto Caninkan Nano appelo duro Caninkan Le taglie più piccole Appelo corto E Caninkan Appelo duro Allora Standard Appelo corto Scelto Di là per cortesia Miscino al Terranova Quinto Gruppo Allora Alaskan Malamut Siberian Aski Samoyedo Akita Giapponese Chou Chou Shiba Spitz Nano Ok Quinto gruppo Cani di tipo Spitz Nordici E primitivi Abbiamo un Alaskan Malamut Un Siberian Aski Un Samoyedo Un Akita Giapponese Un Chou Chou Uno Shiba E uno Spitz Un Fred 무사 B Alaskan Unismo ui Un 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ci siamo per il quinto gruppo. Alaskan Malamut. Grazie agli altri. Allora, sesto gruppo, sono solo... Rhodesian Ridgeback Beagle. Ok, sesto gruppo. Segugi e cani per pista di sangue, abbiamo un Rhodesian Ridgeback e un Beagle. Ok. Quindi... Qua è una dura legge. Uno fuori, uno dentro. Beagle. Allora, settimo gruppo, cani da ferma. Daimaraner. Spinone italiano, Vizzula. Cani da ferma. Il Weimaraner, il Weimaraner, il Spinone italiano e il Bracco Ungherese Vizzula. Anche qui sono tre. Uno dentro, due fuori. Se non posso chiedere al pubblico, ma sarei molto curioso di vedere, di sentire le scelte del pubblico. Che sicuramente non coincidono con quelle del giudice. Ok. Weimaraner. Allora, ottavo gruppo, cani da riporto, da cerche d'acqua. Golden Retriever. Labrador Retriever. Carly. Lagotto. Cocker Spaniel, inglese. Cocker Spaniel, americano. Allora, ottavo gruppo, cani da riporto, da cerca e d'acqua. Golden Retriever. Abbiamo tre Retriever. Il Golden, il Labrador e il Carly. Allora, vedete, questo è un Carly. è una razza che non sempre si vede sui nostri ring. E quindi abbiamo modo di conoscere una razza seminuova. Lagotto Romagnolo. Invece, una razza italiana conosciutissima. Cocker Spaniel, inglese. E Cocker americano. Allora, siamo anche qui, pronti per la scelta. Carly. Allora, nono gruppo, compagnia, Barbone, Grande Mole, nero. Barbone, Media Mole, nero. Barbone, Nano. Rosso, marrone. Rosso. Barbone, Toy, nero. Cavalier King, Carlino. Coton de Tulear. Bulldog, Bulldog, francese. Chinan Crest and Dog. Chihuahua, appello lungo. Allora, vediamo qua i cani da compagnia. Il Barbone, Grande Mole, nero. Media Mole, nero. Nano, rosso. E Toi, nero. E Toi, nero. Il Cavalier. Il Carlino, nero. Coton de Tulear. Coton de Tulear. Bulldog, francese. China, Crest and Dog, con Piumino. E Chihuahua, appello lungo. Bulldog. Grazie agli altri. Ultimo gruppo e poi avremo la finale. Allora, Levrieri, Levriero Afgano. Salucchi, Borgoi, piccolo Levriero Italiano. Ok. Ultima scelta. Nei Levrieri, fra l'Afgano, il Salucchi, il Borgoi e il piccolo Levriero Italiano. Il cropped. Continuare il vino per laolinea. Allora, Almontan. Cuore. Capiz. Cinco. Ilorest. D instead. Vuoi. Malon, ai dot. Borgioi grazie ok mettiamoci in ordine di gruppo ecco qua i dieci finalisti Pastore, australiano Terranova American Stafford, Shire Bassotto Alaska Malamut, Beagle Weimar Runner, Carly Burdog francese, Borzoi Grazie Grazie Ecco qua il Terranova American Stafford, Shire Bassotto standard appelo corto Alaskan Malamut Beagle Weimar Runner Carly Bulldog francese Bulldog francese e Borzai Levriero russo Grazie 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 Allora ci siamo abbiamo il risultato il podio del Best Giovani la signora saluta i partecipanti fermi fermi dove andate vi saluta tutti non vi ha cacciato anche perché al terzo posto Pastore, australiano al secondo posto Weimar Runner vince Alaskan Malamut Veterani Allora il ci mal ci 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 Grazie a tutti.